Grazie a tutti. In biscottino! Chi è là? Un attimo, arrivo! Peggio per voi che avete bussato, non vi sarà difficile entrare? Per voi sarà un problema uscire? Ah, eccomi! Mia signora, mia signora avete visite! Chi desidera vedermi? Colodu, forzami colui che ha avuto tanto coraggio! Gentile madame, mi manda... Chi vi ha dato il permesso di parlare? Ora parlate! Gentile madame, porto un messaggio da parte del ministro Siem. Grazie! Siete molto gentili! Ora potete andare, prima che cambi idea! Anche perché per la mia nuova pozione mi serve giusto un pezzo d'oricchio e la lingua di un giovane uomo! Gentile madame, la prego, mi lasci andare, devo tornare per riferire! Ma certo! A pezzi! Oh! Colodu! Colodu! Oh! Colodu! Colodu, finalmente! Finalmente! Farò un ritorno maestoso! Madame, vi riconosceranno tutti! Tutti si ricorderanno di voi! Colodu! Colodu, Colodu! Il futuro re vuole trovare una regina! Sarò la più bella, la più dolce, la più sensibile! Sarò strida! Strida! Sarò regina! Sarò regina! Avrà un re! La mia potenza sarà conosciuta e mai più dimenticata! Preparatevi! Sto per arrivare! La mia potenza sarà conosciuta e mai più di 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 più Grazie a tutti.